Diamo spazio al nostro ospite e non lo facciamo ulteriormente attendere che altrimenti l'emozione sale ancora di più Diamo il buongiorno a Gianluca Sartini, candidato come detto al Collegio Unilominale per la Camera a Rimini per il Partito Repubblicano Buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte Allora Gianluca, ben trovato, partiamo subito visto insomma che in questi giorni lo facciamo un po' con tutti Sia che la politica l'ha masticata da tempo, sia che invece magari ci arriva come prima esperienza Comunque come esperienza dedicata a un cammino più personale Partiamo da lei, partiamo anche dalla sua scelta di candidarsi ma soprattutto anche all'interno di questo percorso Che poi l'ha portata la candidatura nel Partito Repubblicano Certo, allora guardate, mi presento subito dicendo che sono un neofita in campo politico Mi sono candidato al seggio uninominale della Camera dei Deputati nel Partito Repubblicano Perché ho trovato nel Partito Repubblicano un'affinità per quelle che sono le sue ideologie e quelli che sono i miei ideali Per questo sono stato, tra virgolette, inserito da un amico di famiglia che mi ha fatto scoprire un po' questo ambiente e questo nuovo mondo Gianluca, quando è iniziata questa conoscenza reciproca? Dico la verità, pochi mesi fa Il Partito Repubblicano, parlando un attimo di quella che può essere la storia di questo partito È un partito antico ma nuovo In senso che comunque sono 23 anni che non si presenta nelle liste elettorali Però è un partito che fu fondato nel 1895 Ha una lunga storia Ha una lunga storia, esatto E proprio per questa lunga storia e per questa cultura Il Partito Repubblicano, diciamo, si ripropone quest'anno Per riportare quel patriottismo repubblicano come baluardo per il mantenimento della libertà, della giustizia e della democrazia Gianluca, ci vuole dire qualcosa anche di sé? Perché poi lei è del territorio, insomma un territorio che conosce bene Quindi poi quando la sollecitiamo sui temi locali in qualche modo è un territorio che conosce molto Sì, assolutamente, io sono di Rimini, sono nato a Rimini Sono un piccolo imprenditore nel settore turistico Ho un albergo a conduzione familiare E ho un'altra piccola attività sempre inerente al turismo Che dire, ripeto, mi sono candidato soprattutto per mettermi in gioco in un campo che, ripeto, per me è tutto da scoprire In più perché vorrei portare, se possibile, un mio piccolo contributo a quella che può essere sia la mia città che il mio paese Quindi passione che l'ha portata a questa Io volevo aprire una piccola parentesi anche sul ritorno, appunto dopo 23 anni del partito repubblicano Sulle schede una lunga assenza in solitarie, insomma Quindi già questa è una soddisfazione, immagino Assolutamente sì Diciamo esatto, siamo presenti in tutti i seggi Quindi, diciamo, il partito è tornato alla grande Mettiamola in questo modo Siamo pronti a giocarcela in campo con tutti gli avversari Allora, partiamo dalla situazione Noi non siamo dentro nessuna grande coalizione Siamo un partito che ha la sua autonomia Per scelta questo Per scelta, assolutamente Diciamo che noi non guardiamo né a destra né a sinistra Noi guardiamo avanti È un partito, ripeto, antico ma nuovo È un partito lungimirante perché comunque vuole investire sulle nuove generazioni Vuole investire sul settore della ricerca, sul settore dell'innovazione Soprattutto perché vuole un ammodernamento di questo paese Quindi cerchiamo di riportare l'Italia al più alto livello, diciamo E questo è un po' quello che vogliamo Il repubblicano non parla solo di Italia Cioè il repubblicano è un europeista Quindi noi vogliamo superare quella che può essere una sovranità nazionale Ma collocare l'Italia nel quarto polo politico-economico mondiale Che noi chiamiamo gli Stati Uniti d'Europa Se vogliamo giocarcela con quelle che sono le... Quindi è un'Europa più forte con una centralità anche del potere italiano In questa nuova compagine, possiamo dire così? Sì, noi diciamo vogliamo un governo europeo Diciamo votato da un Parlamento europeo Quindi... Ambiare i confini in qualche modo Ambiare i confini, sì Ancora di più, quindi proprio c'è un'evoluzione Una scelta che va in controtendenza con molte cose che abbiamo sentito E che sentiamo durante questa campagna elettorale Assolutamente sì, assolutamente sì Quindi non avere paura, allargarsi e cercare di ottenere qualcosa di più grande Per essere più competitivi anche a livello mondiale Gianluca, come... Prego, prego Sì, sì, si voleva aggiungere Trovare quella che può essere chiamata un'identità europea Questo è quello che cerchiamo Allora, andiamo a vedere come fare Cioè nel senso, noi probabilmente anche chi ci ascolta Diciamo, quelli con qualche annetto in più Forse si ricordano il Partito Repubblicano Insomma, ai tempi Insomma, in cui faceva parte anche della compagine politica In modo più attivo Vediamo allora quali sono i principi Che cercate di portare avanti A livello economico, a livello politico A livello, non so, anche rispetto ad alcuni temi Cardine del vostro programma elettorale Ma sì, allora Possiamo parlare Per quanto riguarda, non so In primis Noi vogliamo mettere, diciamo Il cittadino al centro Di quello che è il nostro pensiero Cerchiamo in primis Per mandare avanti questo paese Bisognerebbe Come dicono anche in molti altri partiti Bisognerebbe innanzitutto Diminuire un po' questa pressione fiscale Che sta effettivamente Strozzando il paese Sta strozzando le imprese E soprattutto sta stroncando Quello che è un settore A cui io tengo parecchio Cioè il settore del turismo Perché volendo parlare Non solo a livello locale Per Rimini Proprio a livello nazionale Io penso che l'Italia O comunque la nostra regione Sia una regione che vive Di questo settore Vive di turismo Quindi in primis Bisognerebbe agevolare Tutti questi piccoli imprenditori O questi giovani Che provano a fare decollare La loro piccola azienda La loro piccola impresa E quindi aiutarli Cioè lo Stato E' quello che penso io Che lo Stato deve essere Un amico per il cittadino Non un antagonista Non un antagonista Quindi in primis Lasciare decollare Queste aziende Per poter creare Nuovi posti di lavoro Per poter creare Ricchezza Per poter riuscire a far partire Come si potrebbe fare Una proposta concreta Perché qui ne sentiamo tante Insomma in questo periodo In primis Io diminuirei la burocrazia Che c'è dietro A questa situazione E ripeto Bisogna allentare Assolutamente Questa pressione fiscale Questo è importantissimo Poi ripeto Lo Stato Secondo me Dovrebbe supportare Di più le idee Dovrebbe supportare di più Soprattutto i giovani Io la vedo così Questa è una ricetta Che secondo lei Potrebbe far ripartire L'economia italiana Assolutamente sì Bisognerebbe investire Nelle infrastrutture E bisognerebbe investire Su questo settore Che secondo me È il settore più importante Il turismo Un altro tema Appunto All'erà della pressione fiscale Del rilancio Dell'economia Spesso sentiamo anche Parlare Di quelle che sono Le tematiche relative Alla sicurezza Una sicurezza Che è un argomento Importante a livello nazionale Lo è anche sul territorio Riminese Sì Assolutamente Allora Premetto Io abito A Miramare Una zona Che spesso Purtroppo È noi È stata citata Assolutamente Allora In primis Anche qui Io Chiederei Diciamo Un ampliamento Di quelle che possono essere Le risorse A livello Diciamo Quello che noi chiediamo Può essere Per aumentare La sicurezza Nella città Può essere Il poliziotto Di quartiere Quindi forze dell'ordine Un pochino più presenti Esatto Incrementare Le forze Anche proprio Incrementare Le forze dell'ordine Forse in questo momento Non sono abbastanza Per tutelare La nostra città O il nostro paese E in più Mettere quello che può essere Un poliziotto di quartiere Che Diciamo Possa mantenere La sicurezza In ogni quartiere In più Si potrebbe Bisognerebbe Riqualificare Le periferie Quindi È vero Che Il sindaco Preme molto Il borgo San Giuliano Comunque Il centro storico Però Secondo me Bisognerebbe Cercare di Aiutare Anche quelle Che sono Tutte le periferie Della città Gianluca Questo chiaramente Poi è anche Un suo parere Personale Ma lì Lei investe Lavora Vi sentite In questo senso Più Più E marginati A livello Anche proprio Di promozione Di un territorio Allora Da una parte Sì Perché comunque Io ho delle attività Che sono proprio Sul mare Sono a Riva Azzurra Quindi Prima di Miramare E assicuro Che la sera Anche in piena estate Da mezzanotte in poi C'è da aver paura In giro ci sono Brute facce Prostituzione C'è C'è Diciamo Un degrado Che secondo me In una città Turistica Come Rimini Assolutamente Non dovrebbe esserci Gianluca Allora parliamo Anche del turismo Perché è un po' Anche forse La storia Da cui lei arriva Che probabilmente L'ha fatta anche aderire Da piccolo imprenditore Come si raccontava Proprio anche A questa proposta Per il partito repubblicano Ma anche per lei In modo particolare Che porta Il suo valore aggiunto All'interno del partito Con la sua candidatura Come la si vede Diciamo a livello locale Ma anche a livello più Ampio Allora Sicuramente Io penso Che io adesso Posso parlare In maniera specifica Del turismo di Rimini Beh che direi Che comunque A livello nazionale Ci dà Una partita importante Un indotto importante A livello nazionale Esatto Allora Siamo diventati Un turismo di massa Questo ormai Non è un segreto Anzi Bisognerebbe Secondo me Rilanciare Questo tipo di turismo Bisognerebbe Rilanciare Questa città Per Tornare a quelli Io ricordo 20-25 anni fa Dove Rimini Io mi ricordo Ero in albergo Con i miei genitori Seduto di fuori Vedevo Ogni 5 minuti Sfrecciare O una Ferrari O una Lamborghini Diciamo che Alzare un po' il livello Bisognerebbe Alzare un po' il livello Bisognerebbe Che anche Gli alberghi I bagnini Si mettessero D'accordo Per non andare Sotto Determinate Cifre Determinati Prezzi Bisognerebbe Mantenere Un certo Tipo Di qualità Bisognerebbe Diciamo Mettersi Un po' In linea Per quanto riguarda Questo genere Di situazioni Ma un ministero Del turismo Lo vede Come ipotesi Anche a livello nazionale Visto che se ne è parlato Tanto Anche In questo periodo Oppure Servirebbe poco A livello politico Avere un Dicastero ad hoc Potrebbe essere Un Potrebbe essere Un'ipotesi Potrebbe essere un'ipotesi Sì Una soluzione Quando si parla di turismo Chiaramente si parla di strastrutture Ci spostiamo anche sulle spiagge Certo Esatto Da una parte e dall'altra Quindi la spiaggia Come valore aggiunto Tanto lei è lì E quindi Bolche Le sentirà parlare Più o meno tutti i giorni Sono contento Come avete fatto questa domanda Perché Ma facciamo a tutti Quindi Se uno vede i nostri intervisti Si prepara prima a casa Perché vorrei Sottoporre Una questione Che Prego In qualche modo collegata In qualche modo Esatto E collegata Allora Premettiamo che L'agenzia Dell'entrata del territorio Di Rimini Ha chiesto Questo faccio una piccola prefazione Prego Ha chiesto L'accatastamento Dei cabinotti Nei nostri stabilimenti balneari Proprio perché Così Possa far pagare L'Imu Su questi accatastamenti Allora Qui noi abbiamo Una sentenza Del Tar della Liguria Che cita Gli stabilimenti balneari Ove siano costituiti Da strutture Di facile rimozione Caratterizzate da intrinseca precarietà Sia in senso materiale Sia in senso temporale Cioè stagionale Non sono sottoposti Ad obbligo di accatastamento E infatti Quando L'agenzia Dell'entrata del Ligure Ha richiesto Il pagamento Del limbo Dall'accatastamento Secondo il giudice C'è stata la sentenza Secondo il giudice dice L'agenzia del territorio Ligure Non ha dunque Correttamente Considerato Che l'obbligo Di accatastamento Deve essere correlato Al principio Della facile rimozione In quanto Se questo è sussistente L'obbligo viene a meno Conseguentemente In Liguria Non si dovrà più pagare l'imo Per le cabine Dei stabilimenti balneari E noi Chiediamo Che questa cosa Venga fatta anche da noi In riviera Quindi un po' in tutta Italia Insomma In tutta Italia Assolutamente Assolutamente Visto che la Liguria Funziona così Perché non deve funzionare così Da noi Esatto Cioè questa è un'ingiustizia E quindi Diciamo I bagnini In questo senso Vanno Aiutati Per togliere Questa vessazione Che poi Non è I bagnini che poi sono Come diceva In attesa anche di capire Quale sarà il loro destino In merito alla direttiva Visto che lei parla di Europa Dice di Stati Uniti D'Europa Quindi in qualche modo A confrontarsi con gli altri Bisogna farlo Come la vede questa Bolkenstein? Allora La vedo che Questo è anche Un mio giudizio personale Noi diciamo No Alla direttiva Che chiede Di mandare all'asta Gli stabilamenti O quello che è Il demanio Pubblico Ma perché no? Perché si andrebbe A destabilizzare Un vero e proprio Sistema economico Del turismo Dove ci lavorano Dei professionisti Che sanno Quello che fanno E quindi Sai Rilanciarla All'asta All'asta Al miglior referente Non penso che sia La soluzione giusta E controproposta Come ci si confronta Però su quella Che è una direttiva Che comunque Oggi c'è E quindi insomma In qualche modo Comunque Bisognerà dialogare Tante posizioni In campo Sicuramente Allora Dare Il diritto Di precedenza A chi ha già Il suo stabilimento Questo potrebbe essere Insomma Una soluzione Un'asta guidata In qualche modo Esatto Esatto Sì Un'asta guidata Dove in primis Si chiede al diretto Interessato Al diretto gestore Se vuole rinnovare La licenza E poi Chissà Cioè magari Sì si può alzare Un po' il tiro Però ripeto Secondo me Questo sistema È ben È ben rodato Quindi Non andrei troppo A destabilizzarlo È rischioso È rischioso Sì Molto rischioso Parliamo di un altro tema Sempre dibattuto Quello dell'accoglienza Dei migranti Dell'immigrazione Che dire Noi Come repubblicani Siamo A favore Per quella che è L'immigrazione Regolata Regolare Cioè regolata Dalla legge È Assolutamente Contrari A questa A questo Flusso A questa onda Di clandestini Che stanno invadendo Non solo l'Italia Ma l'Europa Anche qui Cioè Rischiamo di andare A destabilizzare Tutto quello che è Il nostro paese Ma non solo Il nostro paese Ripeto Tutti gli Stati Uniti D'Europa Quindi Assolutamente È un fenomeno Da Dico Fermare Bisogna cercare Di rimandare Il più velocemente Nei propri paesi Quelle persone Che non hanno Il diritto Di stare qui Al contrario Cercare di gestire Al massimo In maniera migliore Le risorse O comunque Quelle persone Che hanno Che hanno Un'immigrazione Regolata Gestita Dalla nostra Quindi insomma C'è questa doppia Valutazione Da una parte L'immigrazione Che può essere Una risorsa Anche sul nostro territorio Però questa Una risorsa Da una parte Ma Diciamo Con questo flusso Selvaggio Che non si riesce A fermare Questo Sicuramente Non può essere Né una risorsa Per noi Né una risorsa Per loro Io volevo Tornare un attimo Invece Visto che Mi interessava Anche L'aspetto Più turistico Abbiamo parlato Di infrastrutture Volevo parlare Un attimo Con lei Anche dell'aeroporto Visto che vive In una zona vicina Lei da albergatore Come la vede Questa dell'aeroporto Nel senso Nel suo albergo Nell'albergo Dei suoi vicini Persone Che desidererebbero Vi dicono Vorremmo arrivare In aereo Invece Non so Siamo dovuti Arrivare in macchina Oppure abbiamo fatto Dei percorsi strani Un'ipotesi Cioè Visto che siete Anche vicini Sì Certo Assolutamente L'aeroporto È lì a mia armare Eh infatti Comunque Allora Io Senza entrare Troppo in merito Su questa questione Vorrei dire Che sicuramente C'è stata Una malgestione So che adesso Un'agenzia Aeriminum Sì Un'azienda Certo Una società Una società Privata Perché sappiamo Le vicissitudini Dell'aeroporto E ha preso in mano La questione Che dire Spero Perché sicuramente Da operatore di Rimini L'aeroporto È indispensabile Per il nostro turismo Ma non solo A livello locale Ma anche a livello Provinciale Regionale E quindi Spero che Spicchi il volo Il prima possibile In senso Spero che Possa ripartire L'avventura Con il nostro aeroporto Quindi insomma Lo vede assolutamente Come un valore Da sostenere Indispensabile Perché anche a livello Spesso si dice Che poi i parlamentari Hanno Un ruolo Anche nella gestione Delle infrastrutture Più locali Perché portano L'attenzione Anche su una gestione Diversificata Del territorio Quindi lo vede Come un valore Assolutamente Sì Di cosa parlare ora Io direi Che c'è un tema Importante Che è anche quello Del sociale Come Insomma In una situazione Di crisi Dalla quale Si fa fatica ad uscire Diventa importante Anche il modo In cui In questo caso Chi sarà chiamato A governare Il paese Si pone Di fronte Alle difficoltà Sì Che dire Allora Ripeto Noi come repubblicani Mettiamo al centro Il cittadino Quindi In primis Per il sociale Io sono Per il supporto Alle famiglie Sono Importanti Da Sostenere E Diciamo Si potrebbe fare Soprattutto Quella che è Un'offerta Maggiore Per quanto riguarda I nidi Bisognerebbe Agevolare Le tariffe Per quelle famiglie Che hanno più Di uno, due, tre figli Questo secondo me È molto importante Per far sentire Il cittadino Insomma Tutelato Anche dal nostro Stato Quindi insomma Un aiuto alle famiglie Assolutamente sì Famiglie perché possano Crescere Perché possano Insomma Costruirsi Un futuro Un futuro in Italia Tramite detrazione Perché c'è anche questa discussione Che sentiamo spesso C'è chi parla di bonus Chi parla invece Di detrazioni fiscali Insomma Sono due vie diverse Sì Allora Assolutamente Le detrazioni fiscali Potrebbero essere Interessantissime Per la singola famiglia Però Diciamo che In questo In questo panorama Politico Vige Molta demagogia E molto populismo In senso che Bisogna stare attenti A fare delle promesse Economiche Al cittadino Cioè Bisogna parlare Chiaro al cittadino Fare delle promesse Che poi si possono mantenere Perché è inutile Volere Tra virgolette Dare la mancetta Solo per Farsi votare al momento E poi Chiaramente Recuperare Quei soldi Che togli da una parte Da un'altra parte Cioè Questo è il sistema Un po' Che c'è in questo momento In Italia Perché Fondamentalmente Dobbiamo fare I conti Con le nostre tasche Cioè Io penso che Lo Stato Sia come una grande famiglia Io Non posso promettere A mio figlio Che gli compro Sei paia di scarpe Nuove Tutti i mesi Magari Gli posso fare Una promessa Che quella sincera Ti può imparare Uno ogni tre mesi Quindi bisogna Parlare Chiaro Alla gente Bisogna Secondo lei È questo che sta mancando Alla politica Visto che Insomma Voi vi siete riproposti No Cioè Di fronte ad un panorama Che non convince Mi sembra di capire Arrivi questa proposta Questa proposta repubblicana Soprattutto Che cosa è mancata A questa politica A livello bipartisan Forse Non so Poi se magari Ci sono più critiche Nei confronti di qualcuno Piuttosto che Nei confronti di qualcun altro Guardi Quello che manca E il parlare chiaro Alle persone Secondo me Manca Manca la sincerità Io parlo di demagogia Proprio perché Secondo me Diciamo Le grandi coalizioni Cercano di attirare Compromesse Non sempre Mantenibili Il cittadino Invece Al contrario Bisogna spiegare bene Al nostro cittadino Qual è la nostra situazione Attuale Com'è vivere la campagna elettorale Dal di dentro Perché insomma Ci raccontava Che per lei La prima volta Questa è anche una campagna elettorale Molto particolare Vista la tempistica Visto il clima Anche poi forse La legge elettorale Insomma Ci sono tanti elementi nuovi Assolutamente Allora Che dire Non sarà facile Per noi Arrivare alla soglia di sbaramento Il 3% Per andare quel 3% Però diciamo che Il repubblicano Il partito repubblicano Si rivolge A quelle persone Che vogliono Un cambiamento Quelle persone Che sono stufe Di sottostare Ripeto Questa demagogia Questo populismo Che vige in questo momento Nel nostro sistema politico Nel nostro Panorama politico Lei lo diceva C'è questo sbarramento Del 3% Che per piccoli partiti Insomma piccoli Nel senso Il partito repubblicano Che è stato un grande partito Però poi è anche vero Che bisogna ricostruirlo Dopo tanti anni Lontani dalla scena politica Più attiva Arrivare a quel 3% Per essere che cosa In Parlamento Cioè torniamo anche un po' A quelli che sono proprio I principi Perché qualcuno oggi Dovrebbe appunto votare Lei lo diceva Per allontanare un po' I populismi Però anche con quali Proposte più Più stringenti Che differenziano Il partito repubblicano Anche dagli altri Ma già Secondo me ripeto Come ho detto prima Cioè noi Quello che vogliamo fare È parlare chiaro Che secondo me Questa è una caratteristica Che in questo momento Non ha nessun altro Quindi cioè Parlare chiaro Al cittadino Spiegare come stanno Realmente le cose E supportarlo Questo Quanto posso dire Allora insomma In qualche modo Rigiriamo queste parole Chiedendole un appello Al voto Perché appunto Votare il partito repubblicano E mettere Una cavoce anche Sul nome Di Gianluca Sartini Allora Votiamo Questa foglia D'edera Per Per Ripeto Provare A fare Un salto Di qualità Per provare Ad avere Un cambiamento Che in tutti questi anni Sia a destra O a sinistra Non c'è stato Proviamo Il repubblicano Questa foglia D'edera Insomma Che torna A sventolare Questo logo Che torna A sventolare Assolutamente E perché Su di lei Anche Non solo Il partito Ma perché Puntare Su Gianluca Sartini Cioè Come se la gioca Questa campagna elettorale Me la gioco Dicendo che Ripeto Pur Non essendo Un professionista Della politica Anzi Io vivo Del mio lavoro Sono qui Proprio perché Voglio portare Un contributo Alla mia città Io Ripeto Da Operatore del turismo Punto tutto Sul turismo Ma vi siete Vi sentite un po' Rappresentati Perché in questa campagna elettorale Vediamo i grandi nomi Di coloro che giustamente Forse si contendono Un posto In Parlamento Vi considerano La considerano Penso di no Quindi insomma Può essere Penso proprio di no Quindi può essere Un'occasione Questa per Per farmi notare Assolutamente Per fare conoscere Anche un po' Un po' Le proposte Avete presentato La lista Gianluca Cioè l'avete fatto Su a livello territoriale È venuto qualche rappresentante Anche a livello nazionale Insomma diamo anche Questi elementi Perché insomma Credo che siano utili Per chi poi andrà Il 4 marzo a votare Sì allora Noi Il nostro capolista L'avvocato Paolo Gambi Per fare nomi Del partito Abbiamo il nostro Segretario regionale Che è Renato Lelli E il segretario nazionale Che è Corrado De Rinaldi Saponaro Sono un po' I nomi di spicco E a Rimini Ruoterà qualcuno di loro Per venire a sostenerla? Beh io penso che sì Adesso abbiamo fatto Quando è stato Il 9 di Il 9 di Di febbraio Abbiamo fatto La cena Tutti insieme Abbiamo festeggiato La Repubblica Romana E quindi dai Sento molto sostegno Da parte Di queste persone Poi ripeto Io sono nuovo In questo campo Però vedo che Mi hanno molto Motivato E mi hanno voluto Rendere partecipe Di quelli che sono Tutti i loro valori E mi hanno voluto